buonasera buonasera amiche amici qualche minuto per stare insieme a voi questo venerdì sera sono qua sul balcone un po al freddo aria di neve però ci tenevo finalmente a rubare qualche minuto alla frenesia per dialogare un po con voi superando i giornalisti televisivi i rompiscatole per rispondere alle vostre domande se ne avete in questo venerdì sera per parlare un po di futuro un po dei nostri progetti un po di come cambieremo questa italia perché questa italia non la cambieranno i giornalisti i banchieri gli intellettuali da salotto la cambiamo noi insieme la cambio io se mi date una mano voi perché il cambiamento del paese incredibile a dirsi non passa dal tg1 dal tg2 dal tg5 dal corriere della sera dai giornalisti prezzolati e pagati per insultare passa da voi perché questa rete non la possono bloccare non la possono imbavagliare non la possono censurare ci hanno provato e ci riproveranno la boldrini renzi le fake news il pericolo di facebook le bufale ma se le bufale le spacciano loro tutte le sere dai giornali dai telegiornali ecco parliamo direttamente domande risposte senza filtro senza mediazioni senza litigate dato il show con librandi con ciao chi con la boldrini con con questa gente qua noi e voi e questo paese lo cambiamo è quello che li fa impazzire per cui ci insultano mi insultano oggi pensate c'era un articolo sul corriere della sera una volta il giornale più prestigioso d'italia che inizia dicendo a firma di un tizio ho esaminato in televisione le mani di salvini cioè questo ha passato una serata guardando le mani di salvini è esordito dicendo dalle mani di salvini da queste dita si capisce che non ha mai lavorato nella vita boom lo dice uno che evidentemente aveva i calli sulle mani che ha fatto l'agricoltore che ha fatto il camionista che ha fatto l'operaio che ha fatto l'infermiere il poliziotto come no giornalisti pagati per dire cazzate ecco qua non ci sono perché ci sono io e ci siete voi e quindi prima vi voglio raccontare un minuto di quello che sono perché ho posso avere tanti difetti però se voi siete quasi due milioni su questa pagina e perché di questa faccia di questo cuore di questa testa vi fidate ho tanti difetti ma nessuno mi può criticare la mancanza di onestà di coerenza e di coraggio non ho debiti nei confronti di nessuno non sono al soldo di nessuno dico quello che faccio e faccio quello che dico e voglio cambiare da cima a fondo questo paese espellendo uno per uno le migliaia di i clandestini che mi hanno rotto le palle a me e a voi basta basta non stiamo accogliendo chi scappa dalla guerra stiamo pagando in albergo anche qua dove sono in montagna in valtellina ce ne sono 50 in un albergo che si godono la neve che si godono il sole che si godono le montagne scappano alla guerra no la guerra ce la portano qua la guerra ce la portano a milano a roma a napoli a torino a bologna perché in attesa di pagarci le pensioni come dice quell'intellettuale della boldrini spacciano rubano scippano molestano e cosa fa il governo salvini che non ha debiti nei confronti nessuno e che sull'immigrazione non ci guadagna una lira via via li rimanda a casa democraticamente pacificamente biglietto di sola andata in aereo per tornare a casa ve lo dice uno con le mani con la testa e col cuore che ha iniziato a lavorare a 17 anni come tanti di voi per pagarsi gli studi all'università per pagarsi la prima macchina usata una austin metro azzurra non essendo figlio di papà non essendo figlio di banchieri ma essendo i miei due impiegati che adesso fortunatamente sono in pensione saluto mamma e saluto papà che non sono scampati alla fornero che hanno lavorato una vita e che fanno i pensionati non fanno i banchieri non fanno i finanzieri non organizzano centri commerciali non costruiscono palazzi sono pensionati così come saluto mia sorella di 37 anni la sorella del segretario della lega la sorella di un candidato premier che a 37 anni è precaria al rinnovo dei contratti a tempo determinato come molti di voi di mese in mese di due mesi in due mesi a 37 anni ha scelto così a me piacebbe che avesse un lavoro fisso ma mai mi sono permesso di fare un colpo di telefono nelle mai si è permessa di chiedere un colpo di telefono ebbene io penso a un'italia dove a 37 anni se meriti se sei capace se hai studiato se sei in gamba ce l'hai uno straccio di lavoro fisso senza dipendere dall'umore del datore di lavoro della cooperativa della multinazionale che ti può rinnovare il contratto di mese in mese di settimana in settimana non è normale non è normale bene io ho cominciato a lavorare 17 anni lavorando da bet donald in galleria milano anzi allora si chiamava burghi per mesi e mesi facendo panini hamburger patatine pulendo i pavimenti svuotando i sacconi dell'immondizia fino alle due di notte ma allora uno lo faceva a 18 anni a 20 anni per pagarsi l'università e per pagarsi la prima macchina adesso il problema è che da mcdonald ci lavorano i quarantenni i cinquantenni per mantenere la famiglia con due lavori o tre lavori quello che una volta era la gavetta che si faceva da ragazzini adesso la prospettiva di vita per tanti cinquantenni e tante cinquantenni non è normale poi ho consegnato pizze a domicilio con la mia prima macchina laus di metro e ricordo ancora la mancia di 10 mila lire allora c'erano le lire che mi diede gianfranco funari di solito molta gente più aveva soldi più abitava in centro più faticava a salutarti a dire grazia per questo che io quando vedo questi ragazzi che fanno i pony express che consegnano posta pizze o qualcosa a casa ringrazio saluto e do la mancia perché ancora oggi sono passati quasi 30 anni mi ricordo di quel signore che abitava in corso garibaldi in centro milano che mi vide arrivare affannato con le sue due pizze mi diede 10 mila lire di mancia ogni tanto basta un grazie ogni tanto basta un sorriso queste mani che non hanno lavorato secondo il corriere della sera poi ho fatto l'impiegato ho lavorato anche in nero come tanti ragazzi sono costretti a fare oggi e poi ho cominciato a fare il giornalista e l'ho fatto per 12 anni poi non so se sia un lavoro faticoso un lavoro meno faticoso però se un giornalista mi dice che non ho mai lavorato nella vita ho fatto giornalista professionista per 12 anni evidentemente anche lui non si affanna e non si ammazza di lavoro dalla mattina a sera ma veniamo da voi paola mi dice ecco dove ti ho visto allora da burghi quando ero paninara paola non so di che anno tu sia io sono del 73 avevo appena cominciato l'università per pagarmi la retta ho lavorato mesi e mesi da burghi in galleria vittorio emanuele a milano quindi dovevano essere i primi anni 90 se siamo coetanei ero io sono un po ingrassato non avevo la barba però però è stata una lezione di vita mesi e mesi faticosi però a contatto con la gente educata e maleducata però impari tante cose ti formi ti formi il carattere e quindi siamo arrivati qua con l'ambizione di governare questo paese oggi su libero c'era un'intervista dove spiegavo quali sono le priorità del governo salvini via la legge fornero per mandare in pensione la gente che si merita di andare in pensione via tutto quello che toglie tempo e denaro a chi vuole lavorare studi di settore spesometri redditometri burocrazia anticipi fatture elettroniche lasciamo che i commercianti facciano i commercianti gli artigiani facciano gli artigiani gli agricoltori facciano gli agricoltori saluto Gabriele saluto Gaetana saluto Michele saluto Ferruccio saluto Francesca saluto Giorgia si adesso faccio politica che per me è un lavoro e che coincide con una passione con una missione perché fare politica al servizio della comunità e farla bene cercando di risolvere problemi è un lavoro purtroppo è pieno di politici che pigliano lo stipendio e non combinano un accidente dalla mattina alla sera io sono orgoglioso di quello che ho fatto e sono soprattutto orgoglioso di quello che farò se voi mi darete mi darete una mano saluto Gaia saluto Massimo Colaci bisogna processare i traditori 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 sono quelli che ci hanno portato in questa unione europea e in questo sistema folle che ha massacrato la nostra famiglia la nostra economia la nostra impresa la nostra pesca la nostra agricoltura mi dicono ma sei euroscettico oggi Renzi mi ha attaccato Renzi Matteo Renzi l'amico di Maria Elena Boschi il difensore degli italiani ha detto che Matteo Salvini è un populista un bacione a Sissi e alla sua truppa io sono un populista sì orgoglioso se per essere populista si intende essere in mezzo alla gente ascoltare i problemi della gente e lavorare per risolvere i problemi della gente sì preferisco ascoltare la gente normale che non risolvere i problemi dei banchieri dei finanzieri sono orgogliosamente populista e se questa Europa non funziona si cambia e se non vuole cambiare si saluta ce l'ha ordinato il dottore ce l'ha prescritto Gesù Bambino di morire di fame di immigrazione e di regole europee no o le regole europee cambiano o siamo noi che salutiamo eravamo una grande potenza siamo invidiati dal mondo per le nostre bellezze per i nostri monumenti per il nostro patrimonio culturale architettonico musicale letterario per il nostro per la nostra cucina e l'Europa dal primo gennaio permette di mangiare insetti scarafaggi grilli locuste cavallette oh oh io sono politica per difendere il made in italy il lavoro italiano il mare italiano la campagna italiana comprare italiano significa fare politica significa dare lavoro ai nostri ragazzi perché qualcun altro invece ha deciso che bisogna comprare solo prodotti che arrivano dall'estero ma qual è il problema dei prodotti che arrivano dall'estero primo che a volte sono di qualità nettamente inferiore secondo che danno lavoro agli operai all'estero e quindi le aziende licenziano in italia per andare a produrre altrove e io voglio riattrarre le aziende in italia abbassando le tasse cosa che non si può fare ma si deve fare guardate cosa ha fatto donald trump anche lui il riso da tutti insultato da tutti minacciato da tutti giornali televisioni cantanti calciatori ballerine registi registi che poi si sono rivelati dei maniaci sessuali ebbene donald trump fa una cosa strana per la politica italiana sta facendo quello che aveva promesso aveva promesso di abbassare le tasse e ha fatto la più importante riduzione fiscale degli ultimi 30 anni per le imprese si è passati dal 35 al 21 per cento e tutte le famiglie soprattutto quello che guadagnano di meno pagheranno di meno dal 2018 in avanti questo voglio fare in italia aiutare chi ha più bisogno e tornare ad attrarre aziende anche con un sistema giudiziario più veloce più serio più concreto non possono dei processi durare dieci anni forse c'è qualche giudice che dovrebbe lavorare un po di più forse c'è qualche magistrato che dovrebbe lavorare un po di più e soprattutto se qualcuno sbaglia deve pagare se qualcuno sbaglia deve pagare questo è non penso di chiedere l'impossibile questo sono io e adesso comincio a rispondere a voi cosa sto leggendo mi chiede a francesca ce li ho qua sul comodino in questi tre giorni numero uno andrea vitali adoro un romanzo adoro un romanzo italiano in generale quindi questo me l'hanno regalato e questo mi leggo poi un grande classico che mi rileggo con con gioia il piccolo principe e speriamo che il 4 marzo il voto degli italiani regali tanta libertà e trasformi tutti i nostri figli in piccoli principi che tornino padroni del loro futuro e poi mi hanno regalato anche questo libro di un medico famoso a livello internazionale su cui titolo Matteo Renzi inorridirebbe vaccini sì obblighi no chiaro non è nova axe le scie chimiche vaccini sì obblighi no per lasciare a mamma e a papà la libertà di scegliere come e quando rendere sicura la vita dei propri figli visto che io ricordo sommessamente che in 15 paesi europei non c'è nessun obbligo curare è una scelta soprattutto in condizioni di salute precarie o preoccupanti che non può essere imposta a suon di decreti legge per aiutare qualche multinazionale a fare altri quattrini perché qua ormai gli ultimi governi italiani Monti Letta Renzi e Gentiloni ragionavano solo in base alla convenienza di qualcuno al vantaggio di qualcuno sull'immigrazione sui vaccini sulle politiche ambientali sulla scuola ecco la buona scuola è un'altra pessima di forma a cancellare guarda caso visto che proprio in queste ore hanno sottoscritto l'aumento di stipendio degli statali e quando arriverà questo aumento in busta paga a febbraio qualche giorno prima delle elezioni politiche questa è compravendita di voti a casa mia questo è scambio di voti io sono vicino ai milioni di dipendenti pubblici che fanno il loro lavoro e lo fanno bene fino in fondo magari anche al posto di quei lavativi assenteisti che timbrano e scappano però Renzi ci ha fregato una volta non ci rega più vero già una volta regalò 80 euro prima del voto per rubare milioni di voti adesso non è che tu puoi prendere per fessa la gente due volte guarda caso gli aumenti per i dipendenti pubblici arriveranno nella busta paga di febbraio e si vota il 4 marzo voto di scambio a casa mia si chiama voto di scambio però questo può regalare soldi che non ci sono a chiunque a casa a casa la sinistra ne hanno combinate troppe da nord a sud io sono orgoglioso che questa lega una lega che è cresciuta che è in salute che fa paura attivi tanta passione tanta fiducia a nord dove è nata ma anche nelle regioni del centro e del sud nel nome del merito della sicurezza del lavoro dell'autonomia del federalismo che è una battaglia di tutti perché meno si intromettono lo stato centrale l'unione europea meglio si sta tutti quanti saluto milena saluto pinuccia saluto valentina saluto matteo nicoletta parla di magistratura coi tempi dei processi troppo lunghi ha ragione saluto elisa e tutta la giunta della regione veneto saluto roberta saluto giuliana che dice io la chiamo corruzione si guarda degli aumenti in busta paga a febbraio quando si vota a marzo in un paese normale dovrebbero fare schifo ogni aumento di stipendio è il benvenuto però non 15 giorni prima delle elezioni ma dove eravate negli ultimi 1 2 3 4 5 6 anni dai aumenti in busta paga 15 giorni prima del voto voto di scambio se avessimo dei giornalisti seri in italia dei giornalisti liberi dei giornalisti obiettivi dei giornalisti con la schiena dritta su questo dovrebbe scatenarsi il putifero invece no lo fanno renzi lo fanno gentiloni lo fanno laboschi lo fa la boldrini a la boldrini ha detto che si candida è pronti a votare la boldrini e ha fatto tante cose la boldrini non vedo l'ora che sia il 4 marzo per mandarli a casa saluto lucio saluto simone saluto emanuele saluto erigero e tutta la zona di paolo sarpia milano saluto giorgia dalghiero saluto maurizio un disabile di 37 anni e sicuramente noi non prometteremo marie monti in campagna elettorale vedo che c'è gente che promette mille euro di qua mille euro di su topolini gattini cagnolini uccellini parrucchini no no campagna elettorale seria senza fare promesse all'accetto la qualunque però io mi sento di prendere un impegno concreto preciso studiato al centesimo di euro per i disabili per 4 milioni di dimenticati in italia perché c'è tutto per tutti tranne che per gli italiani in difficoltà 4 milioni di disabili molti dei quali sopravvivono con un'elemosina di stato di 280 euro al mese che grida vergogna che grida vendetta il clandestino che sbarca domani mattina e viene alloggiato in un albergo gestito da una cooperativa vale mille euro al mese il disabile ne vale solo 280 vediamo di invertirla questa tendenza e vediamo di non far arrivare più clandestini per tenere per gli italiani difficoltà questi soldi è chiaro che siamo fra natale e capodanno i telegiornali dicono i cenoni quanto si spende caviale champagne ostriche ragazzi ma ci sono 5 milioni di poveri e 6 milioni di disoccupati anche fra molti di voi immagino ci siano uomini donne mamme papà nonni figli in difficoltà senza lavoro con un lavoro precario con un lavoro pagato 3 euro all'ora un'altra proposta di legge che la lega imporrà e l'europa se ne va bene bene se no andiamo avanti lo stesso è un minimo di stipendio sotto il quale non si può andare un lavoro non può essere pagato 3 euro all'ora quello è sfruttamento quello è schiavismo saluto gianfranco saluto paola che mi dice il 4 marzo è anche il compleanno della mia bimba sono fiduciosa sei fiduciosa tu e sono fiducioso io perché il cambiamento non dipende dai giornali dai telegiornali dell'europa dipende da voi due milioni di persone che sono su questa pagina se hanno cuore se hanno testa se hanno voglia e se hanno coraggio spaccano il mondo non ci ferma nessuno fazio mi ha scritto alessandro perché fazio non ti ha invitato non gli starò simpatico me ne farò una ragione certo una cosa mi disturba che fazio giornalista che lavora per la tv visione pubblica pagato da voi pagato da noi il più pagato di tutti i tempi chi è che ha invitato fazio su rai uno la domenica renzi di maio berlusconi grasso renzi di maio berlusconi grasso salvini ops si sono dimenticati si è dimenticato fazio con la litizzetto mi faceva ridere poco prima mi fa ridere zero adesso sono preoccupato sono deluso no e chi se ne frega vinceremo anche senza fazio vinceremo senza la litizzetto vinceremo senza il tg1 senza il tg5 senza il correre della sera senza banche senza televisioni senza giornali senza soldi senza soldi perché io vi siamo l'unico partito in europa l'unico movimento politico in europa a cui un giudice ha bloccato tutti i conti correnti e ha prosciugato tutti i conti correnti portando via anche i soldi che avevate dato volontariamente voi i 10 euro di un pensionato di uno studente di un artigiano mi ricordo un ragazzo disabile in carrozzina che a milano me li ha portati personalmente 10 euro e se mi segue lo saluto e lo abbraccio milanista come me metto salvini io solo questi 10 euro usali bene non li ho depositati sul conto quindi quelli non ce li hanno fregati però mi dice tanto a me danno più mi riempiono più il cuore i 10 euro di quel ragazzo in carrozzina dei milioni di euro degli amici di renzi di berlusconi o di quegli altri e quindi se voi ci credete noi vinciamo e il 4 marzo questa gente e la cosa bella sarà cominciare a fare quello che stasera possiamo solo dire perché purtroppo all'opposizione puoi proporre puoi suggerire puoi emendare possiamo bloccare anche se eravamo in pochissimi pensate in senato i senatori della lega erano solo 12 su 300 12 su 300 ma lo iu soli non è passato lo iu soli l'abbiamo bloccato noi ma l'avete anche bloccato voi con la vostra marea di firme che ci avete dato il gazebo si sono spaventati hanno visto le firme hanno visto i sondaggi zero la cittadinanza non si è regalata saluto cri cri saluto carlo cocco che parla di una dittatura finanziaria che c'è in italia saluto maria concetta saluto roi mauro mattia saluto angela lissana siete una marea ragazzi sapete che siamo in 3400 sintonizzati in questo stesso istante un venerdì sera con un freddo cane a fine dicembre vuol dire che non ci ferma nessuno vuol dire che potranno insultarmi minacciarmi attaccarmi denunciarmi non mi fanno paura perché ci siete voi ci siete voi non ci ferma nessuno questo paese lo cambiamo gli restituiamo quello che si merita ai nostri figli e alle nostre figlie restituiamo la libertà di uscire la sera di cercare un lavoro senza essere raccomandati senza dover chiedere l'aiutino di uscire se vogliono con la gonna senza che qualche maiale o qualche maniaco si permetta anche solo di pensare di allungare le mani voglio restituire dignità le forze dell'ordine poliziotti carabinieri uomini della polizia locale agenti della polizia penitenziaria che sono trattati peggio dei delinquenti che devono curare e che a volte sono pagati meno dei delinquenti che in galera lavorano e si portano a casa i soldi voglio una legge normale sulla legittima difesa per cui la proprietà privata è sacra la vita è sacra e l'aggredito ha di diritto di difendersi senza essere umiliato processato perseguitato addirittura senza dover risarcire ai parenti dei rapinatori e dei delinquenti ma in italia ci sono commercianti artigiani tabaccai farmacisti macellai benzinai che devono pagare centinaia di migliaia di euro di risarcimento danni ai parenti dei rapinatori ai parenti dei rapinatori ho voglia di fare adesso mi becco 48 ore di pausa e poi ho voglia di spaccare il mondo di rimettere il nostro paese al posto che merita abbiamo qualcosa da invidiare ai tedeschi ai francesi ai lussemburghesi no semmai guardiamo agli ungheresi agli austriaci ai polacchi che guarda caso non sono simpatici ai burocrati europei perché difendono i loro confini perché difendono le loro banche perché difendono le loro università perché difendono la loro cultura e quindi le sanzioni contro la polonia le sanzioni contro la lungheria le minacce contro l'austria le sanzioni contro la russia che stanno costando all'economia italiana miliardi di euro di mancate esportazioni ma averne al mondo di uomini di stato in gamba come vladimir putin e lo dico non perché mi pagano i russi per dirlo non mi hanno dato manco una matriosca ma lo dico perché le sono convinto perché difendere le sue imprese perché difende la sua gente perché difende la sua cultura perché difende la sua storia e ridà orgoglio e voglia di mettere al mondo dei figli ai suoi giovani questo voglio fare saluto angiolino saluto rosi saluto andrea saluto federica ecco mi chiedete nonna peppina l'abbiamo fatta approvare questa benedetta legge ma la burocrazia la tiene ancora fuori di casa fuori di casa perché il tribunale perché l'avvocato perché il magistrato no basta tagliare 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 chi lavora viene premiato chi sbaglia a casa a casa saluto angela saluto maria cristina saluto rita siete una marea io non mollo saluto paola de chirico paola gandolfo federico zannini che mi ricorda terremotati alluvionati qua ci sono i clandestini che festeggiano capodanno coi petardi in albergo e ci sono i terremotati nella roulotte senza riscaldamento oggi ho pubblicato sulla mia pagina un video da amatrice con una signora giustamente incazzata con il governo gli immigrati al caldo e gli italiani al freddo in campero nel container cambiare prima gli italiani prima gli italiani sogno un paese che da tutto a tutti ma prima aiuta la sua gente i suoi disabili i suoi disoccupati i suoi mancati pensionati i suoi piccoli imprenditori aiuta i ragazzi a scommettere sul futuro mettendo al mondo dei figli ci siamo ho voglia non vedo l'ora che sia il 4 marzo qua la linea sta saltando saluto patrizia saluto roberto saluto flavio saluto silvia mi sto prendendo un po di appunti saluto giuliana sono in mano vostra ragazzi il futuro del paese in mano vostra non di fazio di renzi di di maio vostra mancano 64 giorni se voi ci credete questo paese lo cambiamo da così a così è possibile è possibile siamo in due milioni su questa pagina se moltiplichiamo testa cuore affetto fiducia passione si cambia si cambia e poi possono cancellarci dalla televisione insultarci sui giornali denunciarci nelle procure chi se ne frega la verità vince la ragione vince queste mani che secondo qualche giornalista di regime non hanno mai lavorato non vedono l'ora di ridare ai nostri figli il futuro del nostro paese un lavoro dignitoso sicurezza onestà merito trasparenza autonomia libertà libertà spero di non avervi annoiato vi chiedo da qui al 4 marzo di essere apostoli di essere evangelizzatori di essere soldati pacifici della rivoluzione del buon senso con la lega si può l'abbiamo dimostrato in tanti comuni lo dimostriamo in tante regioni con la lega si può cambiare si può bloccare un'immigrazione fuori controllo si possono chiudere le moschee abusive si possono sgomberare i campi rom si possono aiutare i genitori separati o divorziati mi permetto un augurio particolare a quelle mamme a quei papà a quelle nonne a quei nonni che non vedranno i loro figli o i loro nipoti perché la giustizia non funziona perché non hanno una casa perché non hanno un lavoro perché non hanno una lira ecco quindi penso soprattutto a chi sta passando qualche ora di difficoltà io ci sono come io conto su di voi contate su di me su queste mani su questa testa soprattutto su questo cuore non mollo fino alla fine sono 60 giorni per riprenderci in mano il nostro paese da qui al 4 marzo non avrò pace fino a che non abbiamo vinto e non avrò pace fino a che non avremo cominciato a riprenderci via per via piazza per piazza paese per paese il nostro futuro grazie ragazzi non vi disturbo oltre crediamoci crediamoci e non ci ferma nessuno se voi ci siete io ci sono grazie